Questa mattina abbiamo discusso dei tempi dell'ambiente col Presidente facendo un po' il punto della situazione per la terra dei fuochi e per tutte le misure che chiaramente la campagna e i comuni mettono in campo, devo dire anche con dei risultati, anche se la situazione è ancora molto grave e molto seria. E' chiaro che col Presidente abbiamo discusso anche di tutto quello che si può fare per far tenere questa questione sull'agenda nazionale come una grande priorità, al di là delle vicende che chiaramente ora riguardano il Governo, però non c'è dubbio che quello che abbiamo chiesto è un'attenzione particolare a questo tema sia per quanto riguarda la distribuzione delle risorse sia per il patto di stabilità. La crisi politica rallenta molto tutte le iniziative che chiaramente gli enti locali, quindi regioni, comuni e noi che siamo sul territorio abbiamo sempre bisogno di una risposta continua e del Governo, però in questi casi la politica ha i suoi tempi, ha le sue fasi, quindi ci aspettiamo e ci auguriamo chiaramente che tutto venga poi risolto con un chiarimento di fondo tra le forze politiche.